ciao ragazzi sono kernan benvenuti sul canale youtube exeguitalia per questo nuovo video oggi parliamo dei cambiamenti che sono stati apportati dall'ultima patch di battlefield 4 cambiamenti inerenti alle armi quindi io vi parlo solo di quello che è cambiato riguardo alle armi e vi spiego una cosa se non ci capite niente di quale pace sto parlando intanto di quella del 6 marzo però perché faccio oggi questo video perché io stavo aspettando in realtà la pace del 18 ovvero se state vedendo il video appena pubblicato vuol dire che 19 marzo ok ieri 18 marzo sarebbe dovuto uscire un'altra patch con all'interno navastrike io aspettavo questa pace perché volevo vedere se i tizi datai che gli piacciono fa queste cose strampalate magari cambiavano ulteriormente alcune cose delle armi magari risposta alcuni feedback che hanno ricevuto in questo lasso di tempo ora la pace del 18 non è uscita navastrike ancora non è uscito quindi per non sapere leggere e scrivere chi se ne frega ce l'avevo da tempo pronto sto video lo pubblico adesso nella speranza che magari oggi stesso che vedete il video domani non è cambiato tutto tutto quello che vi dirò e anche di più potete trovarlo nei due link che vi ho messo in descrizione che vi riportano uno al sito di simpti che è l'altro invece al forum ufficiale del battle log allora primo argomento le granate qui più che un cambiamento è stato effettuato un vero e proprio bilanciamento perché la cosa faceva abbastanza ridere no cioè c'erano ste mini v40 che erano veramente qualcosa di assurdo erano di alieno perché diciamo che una cosa comune degli fps quando tu inserisci appunto nel gioco tre tipi di granate esplosive le devi bilanciare l'una con l'altra no e si presume che la granata che ha un range maggiore come lancio no quindi che va più lontano e che ne può trasportare anche di più di queste granate debba fare meno danno invece dice era riuscita a sovvertire anche questo standard quindi le mini v40 tu ne avevi ne hai tuttora tre e andavano lontanissimo vanno tuttora lontanissimo quando le lanci però prima facevano 80 danno ora 60 quindi per fortuna sono state nerfate in questo caso invece sono state buffate quindi migliorate le impact che adesso fanno anziché 67 danno 80 danno però mi sembra che hanno un range di esplosione ridotto anche le mini v40 hanno un range di danno massimo ridotto quindi comunque sia c'è stato proprio un bilanciamento per quanto riguarda le granate la flashbang anche gli effetti da flashbang sono stati ampliati ma non so questa contesi una cosa che vi interessi visto che sono abbastanza inutili e poco utilizzate quantomeno nelle pubbliche pistole questa è senza dubbio la categoria di armi che ha subito più cambiamenti magnum e rex adesso il loro delay è stato diminuito ah che bello kernan finalmente potrò tornare a sparare con la mia rex e la mia magnum come faceva in battlefield 3 no scordatelo fanno comunque schifo la cosa è divertente perché in titanfall c'è la smart pistol no la conoscete tutti anche chi non ci gioca a titanfall quella intelligente la pistola intelligente invece in battlefield 4 ci sono le retard pistol in tutti i sensi cioè sono ritardate tu gli dici spara e loro non sparano ma come cavolo si fa fare una cosa così sono la rex e la magnum o la magnum come dicono gli stranieri l'unica che si può utilizzare è quella che ho recensito parlando di navastrike ovvero l'sv40 quella è fortissima però queste due sì il delay è diminuito però non abbastanza per dire che vale la pena utilizzarle quindi mi dispiace per tutti i fan dei pistoloni a tamburo per quanto riguarda le altre sidearm sono stati aumentati i danni della fn 57 della qs 92 delle due calibro 45 ovvero la m 1911 la compact 45 in base a quale logica sono stati aumentati questi danni per via dell'armatura ovvero prima queste armi facciamo un esempio fn 57 qs 92 facevano 20 di danno il che vuol dire che bastavano occorrevano 5 it 5 proiettili per killare una persona short range no 20 per 5 fa 100 però se quello stronzetto c'aveva l'armatura ovvero il perk difensivo che gli dà un 10 per cento in più di vita non bastavano più cinque hit perché col cinque hit rimaneva 90 scusate rimaneva 10 di vita allora il danno è stato aumentato da 20 a 22 in questo modo avete un 10 per cento in più di danno che va a compensare questo 10 per cento in più di vita del vostro avversario se ha l'armatura stessa cosa è stata applicata alle due calibro 45 infatti adesso short range non fanno più 34 di danno ma 36.6 sempre parlando di calibro 45 ragazzi la m 1911 adesso è una vera bomba è fighissima e sono contentissimo perché questa pistola qui l'adoro in tutti gli fps la mia pistola preferita è un pezzo di storia allora vi do un'idea dov'è che è stata migliorata precisione adesso in mira è come un fucile d'assalto veramente statistica la mano è precisa quanto un fucile d'assalto una cosa straordinaria poi il rinculo verticale è stato diminuito e soprattutto è stato aumentato quella che è la velocità con cui rincula sapete quel numerello giallo che trovate di cui ho parlato spesso insomma è legato al recoil delle armi quello vi sta a indicare la velocità in gradi con cui l'arma torna in asse da sola una volta che avete sparato numero alto vuol dire che voi siete in grado di sparare più velocemente perché dopo avete sparato l'arma torna subito in posizione e potete sparare un nuovo colpo ad arma ferma e quindi con una precisione buona insomma con quella massima che all'arma questa è una cosa tra l'altro che è stata fatta in molte altre pistole come ad esempio anche la g18 la g18 ha avuto un aumento di questo numero da 18 gradi al secondo a 30 gradi al secondo e questa è un'ottima cosa perché la g18 è un'arma che spara a raffica quindi veramente molto più facile utilizzarla adesso ed è anche molto più efficace quindi vi consiglio di andare a riprendere la g18 io l'ho fatto e ci si diverte molto di più rispetto a prima e quando sparavi non si capisce dove andava ve volava per aria proprio partiva dalle mani al soldato anche la compact 45 sono state apportate migliorie simili diciamo a quelle che riguardano la m1911 però non è precisa come quest'ultima quindi alla fine colt 45 for the win poi quest z92 e fn57 adesso hanno lo stesso caricatore infatti prima mi sembra che la quest z92 avesse solamente 16 colpi adesso invece ne ha 21 al pari della fn57 oltre a questo sono stati anche resi diversi i recoil di queste armi infatti quello della fn è più forte verso l'altro mentre quello della quest z è più marcato lateralmente quindi in sostanza sono diverse ma solo dal punto di vista del recoil perché fire rate danno massimo e minimo e capienza del caricatore sono gli stessi prima di chiudere il capitolo pistole vi dico che la c0 75 è uscita molto rinvigorita da questa patch infatti il danno massimo è passato da 27 a 30 e danno minimo è passato da 13,5 a 14,6 già prima era molto buono ma adesso è davvero p già se pensiamo che il danno minimo è vicino a quello di una carabina quindi fantastico anche i fucili a pompa sono stati migliorati quindi parliamo di 870 mcs occo 12g spas 12 uts 15 migliorati in che senso beh la loro accuratezza quando sparate in mira e siete in movimento è raddoppiata infatti si è passati da uno spread di 0,8 ad uno spread di 0,4 ripeto solo per i fucili azionamento a pompa non per quelli semiautomatici tra l'altro vi ricordo che cosa vuol dire accuratezza per un fucile a pompa non riguarda la dispersione dei pallettoni perché quella l'andate a modificare semplicemente attaccando sulla canna una strozzata modificata ad esempio quella completa ma riguarda quanto è precisa tutta la rosa di pallettoni quindi dove va a cadere in base a dove mirate ok se non ci avete capito un cats comunque potete tranquillamente andare a andarvi a vedere il video che ho dedicato a queste armi nella playlist recensioni battlefield 4 poi anche lo shorty ha subito delle modifiche questa volta in peggio infatti la velocità con cui rincula in hipfire è passata da 10 gradi al secondo a 6 che vuol dire che fare adesso una streak 2 o 3 con lo shorty è molto più complicato se sparate in hipfire quindi non mirando per quanto riguarda i cecchini è stato diminuito il ritardo che serve per avere l'accuratezza massima quando passate da hipfire a ads in pratica quando zoomate sapete che imbatte il f4 per i fucili da cecchino non avete un passaggio istantaneo dell'accuratezza della precisione dell'arma da non mira a mira c'è un certo ritardo ecco questo ritardo è stato diminuito però comunque sia stato specificato da i programmatori della dice che ancora non è possibile fare un quickscope stile code quindi comunque sia l'aggressive riga non è sempre una bella schifezza oltre a questo sono stati modificati i ferretti di tre cecchini ovvero il gol magnum si è passati da 63 rpm a 60 quindi una diminuzione del ferrette leggerissima diminuzione del ferrette anche per quanto riguarda l'sv 98 da 50 a 49 invece il 338 ricon è stato buffato quindi si è passato da un ferrette di 42 a 48 e questa è un'ottima notizia perché adesso anche col 338 ricon si riesce a giocare short range e oltretutto è l'unico fucile da cecchino che ha un bonus per quanto riguarda il fuoco mirato in movimento quindi ottima cosa oltre a tutto quello che vi ho detto sono state effettuate una serie di modifiche che riguardano diverse armi che non vi sto qui a delencare una ad una altrimenti stiamo qui fino a domani mattina però sono piccolissime variazioni che riguardano il ferrette oppure la velocità di volata dei proiettili o i tempi di ricarica invece le uniche due armi che hanno subito sostanziali variazioni sono l'Mtar 21 che adesso non ha più un danno minimo di 18 al pari dei fucili assalto ma un danno minimo in linea con le altre carabine quindi di 15,4 e l'L85 A2 che ha subito un peggioramento per quanto riguarda il ferrette infatti adesso ha 750 rpm anziché 800 e questo è l'unico fucile d'assalto che ha subito delle modifiche tutti gli altri sono invariati quindi quelli che mi chiedono che erano ma che è successo al mio S23 non sparo più come prima non è successo niente anche per questo videozzo è tutto ragazzi se vi è piaciuto magari mettete un like se vi piacciono i nostri video in generale iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo alla prossima